Durante una notte movimentata nella casa del grande fratello, Alfonso ha accusato Stefano di comportamenti destabilizzanti nei confronti della sua ex, rimproverandogli di mancare di rispetto ai sentimenti altrui. Stefano, difendendosi, ha respinto le accuse definendole esagerate, scatenando una discussione accesa che ha portato entrambi a perdere la calma. La tensione è salita a tal punto che la regia ha dovuto interrompere temporaneamente la diretta per evitare un'ulteriore escalation. Le conseguenze dello scontro si sono fatte sentire tra gli inquilini, con alcuni che hanno preso posizione a favore di uno dei litiganti, mentre altri hanno cercato di evitare il conflitto. Questa frattura ha diviso il gruppo, con alcuni che difendono Alfonso e altri che sostengono il diritto di Stefano di esprimere la propria opinione. Questo però rappresenta una svolta nelle dinamiche laser, apprezzando la strada nei calidanti e rivelata, che potrebbero influenzare le prossime.